Non ci sarà Fornasie, in dubbio Matteo Arena. Il Monopoli prepara la sfida contro il Picerno in programma domenica 1 maggio alle ore 17.30. È il primo turno dei play-off, un po' un tabù per la formazione bianco-verde che nelle tre precedenti edizioni è stata eliminata alla prima gara che ha disputato. Per passare il turno basterebbe vincere o pareggiare entro i 90 minuti, poi si giocherebbe il 4 maggio in base alla classifica delle altre squadre che passeranno il primo turno. Per quanto riguarda il Monopoli tornano a disposizione Bizzotto che ha scontato il turno di squalifica contro la Fidelisandria e sarà sicuramente schierato tra i pali Leonardo Loria che, diffidato, fu risparmiato da mister Colombo in occasione della sfida contro i federiciani. Cominciata nel frattempo la prevendita con la piazza che non ha preso benissimo la decisione della Lega Pro di imporre il prezzo di 13 euro per quanto riguarda le curve. Per quanto riguarda la società invece starebbero proseguendo i contatti tra il patrono Onofrio Lopez e il numero uno del bitonto Francesco Rossiello, dimissionario della società Nero Verde, pochi giorni fa. Secondo le indiscrezioni raccolte Rossiello potrebbe entrare con una quota di minoranza nel Monopoli ma non è escluso che lasci il bitonto a fine stagione.